Dedicato alle famiglie dei carabinieri, dedicato alla storia dell'arma. Il calendario 2015 è stato realizzato raccogliendo antichi scritti e foto inviate proprio alle loro famiglie. Tra le immagini che compaiono nei 12 mesi, la prima storica caserma bergia di Torino, dove si insediarono per la prima volta i carabinieri reali. Nella seconda di copertina il dipinto di una studentessa realizzato per il concorso dedicato al bicentenario dell'arma. Si pone l'accento sui valori dell'essere carabiniere, mediante le loro storie, foto e percorsi storici. Tra le tradizioni dell'epoca, l'abitudine di farsi ritrarre con le proprie famiglie davanti alle caserme dove si prestava servizio. Tra gli usi dell'epoca anche quelli risalenti al 1882, quelli in cui si sconsigliava il matrimonio, poiché secondo le testimonianze pare che non si confacesse alla vita di un carabiniere, ma che se si voleva sposare doveva sottostare ad alcune regole. Il matrimonio nel 1822 era quasi sconsigliato per i carabinieri, a meno che di non sposarsi una ragazza di buona famiglia che doveva avere addirittura 5.000 lire di dote. Poi ovviamente nel corso del tempo le regole sono cambiate, liberalizzandosi come giusto al giorno d'oggi. Però nel corso del tempo il matrimonio era visto in maniera molto rigida dai carabinieri, nel senso che c'erano delle regole molto rigide da seguire, perché comunque la famiglia influenzava anche il nostro lavoro. E poi si è voluto dare spazio e soprattutto attenzione a salvo d'acquisto e far sapere anche che prima di diventare un carabiniere lui era un seminarista. Esatto, era un seminarista e quindi ovviamente tutti i valori che sono alla base del suo sacrificio, alla base del suo atto di eroismo che conosciamo tutti, erano anche dati dai suoi valori religiosi.